Ciao, sono Roberta Patanè e organizzo esclusivamente Matrimoni con l'accento. E infatti questo è il nome che ho dato al mio vlog, Matrimoni con l'accento. In tanti anni ho pubblicato video dedicati ad ogni aspetto dell'organizzazione del matrimonio, dall'organizzazione vera e propria come la scelta dei fornitori e la gestione delle tempistiche, al design come la scelta dei colori o di uno stile raffinato ed originale, alla gestione del vostro abbigliamento, come si deve vestire una sposa, che accessori deve portare. Ma c'è anche tutta una parte dedicata agli ospiti, a come prendersene cura, a come si devono comportare loro e anche le mamme e i papà, come si devono vestire, cosa devono fare. Insomma, se siete persone interessate al mondo dei matrimoni, il mio vlog è per tutti voi. Come ogni anno, arrivato il mese di agosto, mi prendo una piccola pausa con i video inediti per dedicarmi ai matrimoni, gli ultimi matrimoni della prima parte della stagione estiva e anche per prendermi un pochino di riposo. Ma non vi voglio lasciare soli e quest'anno ho deciso di dedicarvi la top 5 dei video più amati di matrimoni con l'accento. Al quinto posto si classifica un video dedicato soprattutto a chi sta cominciando l'organizzazione ed è 5 errori da evitare mentre si organizza il matrimonio. Vi metto il link in descrizione e noi ci vediamo la prossima settimana con il quarto classificato. Ciao!